Posso usare la crema di lecce in caixina che si incontra dentro del supermercato? Poder? Puoi, perché, ripeto, sono tutte soluzioni chimiche che poi potremo incasciare nella nostra ricetta senza problemi. A livello di qualità non ho consiglio, perché parliamo di gordura di bassa qualità. Però posso usare questa gordura lattea, per esempio, se la mia regione si incontra un crema di lecce al 55%, quella che è chiamata di nata, posso usare? Claro che posso. Ovviamente, baseato nella quantità di gordura che vogliamo mettere nella nostra ricetta, vedremo che se è un 55% e se c'è una porcentaggio più alta, un 35%, dovremo mettere meno quantità. Grazie. 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 Grazie.